La transumanza, ovvero il movimento stagionale del bestiame lungo le rotte migratorie, dagli antichi tratturi nel Mediterraneo alle Alpi, è una forma di pastorissia iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Nell'Italia centrale e meridionale l'elemento è presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, tra le Alpi, l'Appennino e le Isole, soprattutto in Sardegna, operano ancora oggi 60.000 allevamenti che posseggono oltre 6 milioni di capi e producono latte, formaggio, lana, carne. Le 38 razze ovine italiane sono un patrimonio di biodiversità straordinario. Ma c'è anche una transumanza appenninica emiliano-romagnola che attraversa il Monte Cimone a oltre 2.000 metri, ridiscende nelle vallate, nei prati pascoli e resta stanziale per alcuni mesi. E così siamo ancora alle pendici del Monte per finire il racconto sull'Ortica Nera, le sue proprietà e i suoi utilizzi. Ma mentre ridiscendiamo incontriamo loro i pastori, il cani, il greggio. Allora, questi sono territori bellissimi, siamo ancora alle falde del Cimone e qui incontriamo un momento particolare che è quello della transumanza delle pecore. Lei da dove arriva e dove sta portando questo greggio? Arrivo dalla Vicenza, sulla montagna di qua. Adesso pascoliamo qua, le torniamo indietro, per il dicembre, di dicembre arriviamo alla Vicenza. Quindi dal Veneto lei arriva? Ed è un percorso che fa tutti gli anni? Sì, sì. No, ce l'ha due anni quando sono qua. Ma quante sono queste pecore che rasta? Rasta di Bergamo. Bergamo. Sì. Qua pascolano bene, perché qua ci sono delle belle erbe. Sì, sì, sì. Un po' di arbo, la pascola. Dopo l'inverno torniamo alla Vicenza. Senta, e ha un sacco di cani per tenerli a barra. Queste sono giovani. Cioè nel senso che non le aiutano tanto? No, queste sono piccole, sono giovani. C'è l'acqua grande, e poi pure queste che ci gira dopo pecore. Perché se no da solo si fa una bella fatica. Sì, sì. Comunque mi sembra un greggio abbastanza tranquillo. Sì, sì, sì. Quante sono queste pecore più o meno? Dice che sono 500, 600. Non sono cantate adesso, pure portorici. Sì, sì, sì. Pure portorici. Ma sono bellissime. È bellissima questa immagine. I cani sono deliziosi, questi cucciolotti, le pecore bravissime stanno brucando senza muovere. Cioè non sono distratte da niente. No, 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 no. Senta, da lei quanti anni è che fa questo lavoro? Eh, da 17 anni. Sono vecchio, vecchio. Non sono da qua, sono dalla Romania. Sì. E quindi qua invece c'è solo da due anni o primo è il greggio che ha da due anni? No, qua, qua. E qua sono di due anni. Sì, sempre qua. Questa è la vita mia. Allora, niente, buon fine cammino e buon proseguimento. Grazie mille. Arrivederci. Ciao.